Tutti parlano di crisi, ma alla pulizia e all'igiene non puoi rinunciare. Floor Wash ti dà garanzia di durata con costi di utilizzo ridottissimi. Ti sei mai chiesta dove gioca tuo figlio? Non si vedono, non si sentono, non pungono, ma sono con noi a migliaia, milioni. Sono gli acari della polvere, responsabili di quasi il 50% delle patologie allergiche respiratorie. Anch'io adesso no Floor Wash. Con il sistema di recupero dell'acqua la va sempre con acqua pulita e le due spazzole mi garantiscono la rimozione totale dello sporco, anche dalle fughe. Quindi niente sporco, niente acari. Una perfetta igiene ambientale resta il caposaldo della battaglia contro gli acari. E questa si ottiene solo con un'accurata pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici calpestabili. A maggior ragione in presenza di animali domestici notoriamente possibili portatori di acari. E Floor Wash. E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? Grazie a tutti.